Doniamo insieme a favore della ricerca contro la SLA, la sindrome laterale amniotrofica, una malattia assolutamente terribile. Io purtroppo in famiglia ne sono testimone perché mio zio Totò è morto qualche anno fa, in pochissimi mesi, per questa terribile malattia. Tutti insieme andiamo nel sito aesla.it e doniamo a favore della ricerca. Saluto intanto Giuseppina Pellegrino e Benito Rousa che mi hanno nominato. A mia volta io nomino il sindaco di Piazza Armerina Filippo Miroddi, Don Giovanni D'Andrea, presidente dell'SCS Servizi Civili Salesiani, nomino anche Salvo Adamo, presidente dell'associazione Metacometa e il mio amico Alessio Burò che si trova in Germania. E intanto compio l'atto dell'acqua fredda.